Il primo round è del Manfredonia. Vince 3-1 a Polignano, batte con due gol di scarto in trasferta il Polimnia nella semifinale d'andata di Coppa Italia di Lettanti e pone una serie ipoteca sulla conquista della finalissima della competizione regionale dove è già qualificato il Manduria. La partita si pontina ad un passo dal vantaggio dopo un minuto. Lobosco fa eruzione in area avversaria, si presenta tutto solo davanti all'Onnoce ma guadagna solo un corner. Il portiere del Polimnia è determinante anche in seguito quando salva sulla linea sul tentativo da distanza ravvicinata del giovane Bevilacqua. Insiste il Manfredonia, Lobosco ci riprova col mancino, tutto facile per l'estremo di casa che blocca in due tempi. Proteste si pontine poco dopo il quarto d'ora per un tocco proibito in area di De Carolis. L'arbitro lascia correre. Cinica è spietata, si rivela invece la squadra di Mirko Musera che passa in vantaggio a metà frazione. Niccoli calcia, Chironi respinge e Roncone fa centro sulla ribattuta. 1-0 Polimnia. La reazione del Manfredonia arriva prima della mezz'ora con Morra inspaccata. L'Onnoce neutralizza il punto dell'aggancio. Giunge invece in chiusura di frazione. Potenza tra le proteste dei giocatori di casa si procura il penalty per questo contatto con Patelakis. Si prende la responsabilità di calciare dagli 11 metri e batte così L'Onnoce. 1-1 all'intervallo. Ripresa che si apre con il raddoppio del Manfredonia dopo pochi secondi. Potenza disegna una traiettoria beffarda che sorprende tutti. L'Onnoce compreso. Sorpasso dei garganici. Ospiti ad un passo. Addirittura dal tris poco dopo l'ora di gioco. Ma la conclusione a botta sicura di Turetto colpisce un suo compagno di squadra Bevilacqua sulla regna di porta. Il gol del 3-1 arriva comunque poco dopo e lo realizza all'obosco direttamente su punizione. L'Onnoce valuta male la traiettoria e non riesce ad evitare il peggio. Finale di gara. Roncone per il Polimnia colpisce la parte alta della traversa con un tocco morbido. Il non è entrato Panelli. Proprio al novantessimo si procura un altro calcio di rigore per i Sipontini. Ma morra. Manca il poker dagli 11 metri. L'Onnoce compie una gran bella parata. Finisce 3-1 per il Manfredonia che ha più di un piede e mezzo in finale. Sipontini domenica per la penultima di andata in eccellenza di scena a stornare contro il Real City. Il Polimnia invece ospiterà il Corato, una delle due vicecapolista del Gironia.